Buongiorno, benvenuti a questa diretta di oggi 15 maggio. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata. Ovviamente è il giorno dopo al decreto dei 55 miliardi. Oggi ci sono messi tre giornalisti, autorevoli giornalisti della Repubblica, per spiegarci che i miliardi sono 155, che è la piena propaganda di questo governo. Perché fa bisogno di 55, però gli effetti sarebbero di 155 e quindi c'è la manovrona da 155 miliardi. Ma se sul deficit ne sposta 55, cioè sulla differenza tra le entrate e le uscite, il fabbisogno dello Stato deve essere finanziato per 55, qualcuno mi deve spiegare perché sono 155. Ma questi sono i grandi e gaudiosi misteri di questo governo, ma anche di quelli precedenti, per carità. Per cui, per esempio, c'è il decreto liquidità che vale 400 miliardi e poi diventano 700 miliardi. E poi riesce a vedere che in realtà la SAC ha fatto 4 operazioni per 30 milioni. Ma questa cosa deve essere rettificata perché oggi sommella il direttore di MF e scopre che la più grande operazione di svariati miliardi di prestito, sapete a chi riesce a farla la SACE? Alla Fiat. Straordinario. Quindi noi abbiamo aiutato la Fiat e spero che ne avremo, diciamo, una risposta di tenuta delle fabbriche in Italia, che sono sicuro che, come possiamo dire, riusciranno i nostri eroi a mantenere. Ma l'altro tema fondamentale di giornata, ritorneremo sul decreto, è il distanziamento di due metri. Beh, il distanziamento di due metri è un'altra di quelle follie per i quali soltanto Marcello Veneziani oggi scrive. Il distanziamento è un parto di malati, di mente. Riduci il paese a un quinto. Difatti ha semplicemente fatto un elemento, diciamo, di spazio, più che di tempo. Marcello Veneziani, che è un filosofo, non un matematico, e non un fisico, dice, beh, ma se tutti quanti dobbiamo stare a due metri di distanza, vuol dire che il nostro paese si riduce a un quinto di suo territorio. Che è una bellissima metafora per dire che dobbiamo cercare di combattere questa minchiata del distanziamento. Questo è un paese di fifoni, a partire da chi ci governa, per il quale noi continueremo a mettere paura agli italiani, il che, come dice benissimo Tim Parks, che noi intervistammo, scrittore, traduttore, favoloso, inglese che vive da 40 anni in Italia, oggi intervistato dal Messaggero, ieri intervistato da Quarta Repubblica, dice, ragazzi, state attenti, perché mi sembra che qua l'Italia stia vivendo l'angoscia di questo virus e non riesca a cogliere l'angoscia dei giovani che non troveranno lavoro. Cioè, si fa finta di dimenticare che giovani e meno giovani oggi moriranno di fame, ovviamente, spero, non letteralmente, non materialmente, ma questo è il paese dei distanziamenti, è il paese dei sindaci sceriffi, è il paese dei governatori sceriffi, è il paese dei giornalisti che vanno a lavorare, ma possono pontificare, dicendo, ma che vi frega, distanziatevi due metri, e poi tanto che cosa gliene frega a loro? I giornalisti hanno oggi le sovvenzioni all'editoria che sono ritornate in termini di credito imposto, io sono felicissimo, vorrei anche una sovvenzione, come tutti quanti le categorie, al sito internet, datemi una sovvenzione a nicolaporro.it, sarei felicissimo di ottenerla. Cioè, quello che sto cercando di dire è che se non ci togliamo dalla testa la questione del distanziamento, trasporti, privati, pubblici, turismo, privato, pubblico, incoming, outcoming, ristoranti, baristi, insomma, siamo tutti destinati a morire economicamente, va bene? Tutti destinati a morire economicamente. E se noi continuiamo a essere gli ultimi ad aprire, guardate, voi dite, Porro, sei un pazzo, ma che cosa stai dicendo? Gli aeroporti di Milano ricevevano, non l'ho letto sui giornali, ne voglio parlare a Quarta Repubblica, avevano un traffico di 80.000 persone al giorno, tutta la Lombardia. Sapete a quanti siamo arrivati? A 500, qualche volta a 900 persone, invece che 80.000! Ma avete capito cosa vuol dire questo? Morte! Morte di un territorio! E sapete perché? Perché le compagnie aeree col distanziamento non volano e quindi le compagnie aeree europee voleranno in Italia e nel resto d'Europa senza distanziamento, che negli aerei è una cagata pazzesca! Segnatevi questa data, 15 maggio, 15 maggio, io sono due mesi che dico che se noi chiudevamo tutto morivamo di fame. E ovviamente voi mi avete detto, molti di voi, ma che dice esagerato? Adesso io vi dico una cosa semplice, limpida, se noi continuiamo a pensare che ci sia il distanziamento negli aerei, il turismo in questo paese, oggi c'era un grafico sul messaggero che vale il 20% del PIL di questo paese, è morto! Morto e stramorto! Poi possiamo non avere quei caffoni che arrivano con Ryanair nelle nostre città dalla campagna inglese, possiamo non avere quegli orribili tedeschi che arrivano con Wailing, possiamo non avere quei morti di fame che arrivano dalla Spagna con EasyJet, quello che volete voi, continuate ad andare alla vostra Capalbio, ma distanziatevi all'ultima spiaggia che è sempre stata distanziata o come dice oggi la Sant'Anché, non ci sono problemi quando riaprirà il Twigga perché se spendi 300 euro per un lettino è chiaro che ti distanzi ma il punto fondamentale è che il distanziamento negli aerei vuol dire la morte civile e noi siamo riusciti in questo decreto fantastico da 55 miliardi a dare 500 milioni all'unica compagnia anche se non c'è il nome che si chiama Alitalia e a me va benissimo che Alitalia sia sovvenzionata come tutte le altre compagnie in questo momento in America le quattro compagnie più grandi in Francia in Germania in Inghilterra ma c'è un piccolo problema le altre tre compagnie penso a Blu Panorama penso a Neos penso anche a Erdolomiti che è della Lufthansa neanche un euro e sono le uniche che avevano i risultati buoni oggi sono in lockdown e quindi falliranno mentre Alitalia che aveva i risultati pessimi prima viene aiutata a dispetto delle altre compagnie con i nostri soldi questo sempre nell'idea favolosa che noi possiamo continuare ad andare avanti con aerei riempiti al 50% di default quanto va bene una roba da drogati ma di questo ovviamente i nostri giornali non parlano perché abbiamo tutti l'angoscia che stanno riprendendo i contagi chi se ne frega il problema non sono i contagi anche di influenza si contagiano 8 milioni di persone è come il decorso della malattia ma anche questo oggi non si può dire io lo posso dire perché qua sulla zuppa non mi rompe le palle nessuno Veneziani grandissimo oggi sul distanziamento poi l'altra cosa delle imprese oggi lo citano tutti l'avevamo fatto per primo vi ricorderete guarda caso con un imprenditore del settore turistico a Quarta Repubblica con Bornavò Bocca beh insomma questa follia per la quale oggi il sole 24 ore e non solo ci raccontano che le imprese gli imprenditori i datori di lavoro dovranno pagare civilmente e penalmente se un loro dipendente si ammala di covid anche se non c'è nessuna prova che si sia ammalato nella sua azienda e nel frattempo quei fenomeni della CGL Landini sindacati che ritornano a difesa e a tutela dei lavoratori cosa tutelano? la disoccupazione perché se le imprese e gli imprenditori dovevano pagare civilmente e penalmente per il rischio che un loro dipendente si prenda al covid sapete che fanno distanziamento infortuni sul lavoro tasse che vengono rimandate non annullate mance sul coso se ne vanno se ne fottono chiudono si riprendono i loro risparmi e dicono sapete che c'è di nuovo fatevelo voi caro Landini con i capi di gabinetto con i consiglieri di stato con i politici con i sindaci fatevelo voi una bella impresa fate voi prodotti che altrimenti facciamo noi servite voi caffè svegliatevi alle 4 da alzare la Claire per preparare a fare i caffè ecco questo penseranno queste persone e fanno bene con questi pazzi a cui abbiamo messo in questo decreto con circolare ci spiega oggi del sole 24 ore della come si chiama dell'Ineil perché lì ci immagino che quelli dell'Ineil saranno là certo i lavoratori eccetera da chi arrivano quelli dipendenti perfetti perché i dipendenti pubblici in questo momento e lo vediamo sul tempo non c'hanno cazzi ci sono quelli che lavoreranno bene faccio sempre la solita clausa di salvaguardia ma oggi il tempo ci racconta bene qual è il mood il mood è Fifoni d'Italia stupendo Bekis io faccio un grande grandissimo applauso a Bekis standing ovation standing ovation a Franco Bekis direttore del Tempo che sapete che cosa ha scoperto oggi unico giornale nel panorama del giornale unico del virus è l'unico che non mi fa sentire solo posso dirvi come Bekis è l'unico che non mi fa sentire solo sapete che cacchio scopre oggi Bekis ve la dico ve la dico state lì tutti quanti attenti i Fifoni d'Italia sono i dipendenti della Banca d'Italia che hanno detto ovviamente lavorano tutti da casa in lockdown e lavorare da casa per molti dipendenti pubblici vuol dire non lavorare per alcuni sì per altri vuol dire semplicemente non lavorare non fare assolutamente nulla bloccare tutto questo dimostra due cose che poi questi dipendenti pubblici servono fino a un certo punto snelliamola snelliamola questa cosa facciamo maestre che ci servono medici che ci servono e magistrati che ci servono il resto insomma possiamo eliminare un po' di burocrazia permettendo agli italiani di fare tutto ciò che non è esplicitamente vietato ma questo è un sogno diciamo liberista che non vi sto neanche a raccontare bene ritorniamo a Bekis i dipendenti della Banca d'Italia si rifiutano di tornare in ufficio fino ad ottobre perché hanno paura del virus perché hanno paura del virus io in una cosa non sono d'accordo con Bekis se sapete qual è lui la prende come uno scandalo noi dovremmo prenderla come un'opportunità i dipendenti della Banca d'Italia sono alcuni straordinariamente bravi certamente come tutti i dipendenti pubblici altri sono semplicemente dei gonfioni del loro nome della Banca d'Italia grandissima istituzione italiana che comunque con il sistema delle banche centrali europee ha perso molto della sua autonomia e della sua importanza perché adesso contano più a Francoforte che a Palazzo Coc le decisioni presi e i controlli fatti allora sapete che si deve fare si deve dare ragione i dipendenti della Banca d'Italia si deve dire non avete paura del virus andate a casa rimanete a casa e vi riduciamo lo stipendio perfetto vi mettiamo se no in cassa integrazione come tutti gli altri cristi perché la cassa integrazione che sono 14 miliardi di euro al mese è una bella sola per chi se la prende perché prende ridotto lo stipendio e soprattutto vale per nove settimane replicate per altre nove fino ad ottobre e poi sono cavoli tuoi chiaro facciamo questo non dobbiamo prendercela Franco con i dipendenti della Banca d'Italia dobbiamo incentivarli i dipendenti della Banca d'Italia i 50 mila dipendenti del Comune di Roma tutti quelli che oggi stanno a casa con lo smart working che semmai è home working e semmai è no working questi qua dobbiamo tenerli a casa e non pagarli abbiamo risolto un problema e nel frattempo fare un articoletto di una riga come quello che abolisce l'IRAP in cui si dica tutte quante le cose che dovevano fare i dipendenti pubblici che sono a casa siete legittimati a farle se non avete una risposta silenzio assenso su tutto chiaro che è molto più complicato nel frattempo nel decreto leggo oggi sul sole 24 ore cosa manca? ve lo dico io cosa manca? abbiamo fatto mancette a tutti ma manca la velocizzazione delle opere pubbliche abbiamo centinaia di miliardi di miliardi di opere pubbliche che arrivano dall'Europa non abbiamo più neanche il cofinanziamento obbligatorio ce l'hanno spiegato in tutti e questo governo ci ha messo un mese e mezzo a fare il decreto e il rilancio ma non fa le opere pubbliche il famoso Ponte Morandi tutte le minchiate che ci hanno raccontato opere pubbliche veloce niente non c'è nessun sblocco delle opere pubbliche e neanche pagamento della pubblica amministrazione quindi noi che cosa facciamo? in questo fantastico decreto da migliaia di miliardi oggi i quartieri incalzato da tre giornalisti di Repubblica dice vale 155 miliardi non facciamo l'unica cosa di investimento che sarebbe servita e cioè le opere pubbliche arriverà lo faremo lo diremo oggi la pagina migliore che racconta di questo decreto è fatta da Repubblica che tutte le mancette del decreto ve le spiega una per una e poi il messaggero insieme a Repubblica mettete insieme e vi farà capire come tutte queste mancette sarà difficilissimo portarsene a casa queste mancette sapete perché? perché mancano i decreti i regolamenti l'unica mancetta che arriverà a casa perché abbiamo aspettato per un mese sarà per i lavoratori autonomi gli altri 600 euro a maggio quindi i primi 600 sono arrivati in ritardo un milione di persone ancora non sono arrivate stanno arrivando gli ulteriori 600 arriveranno a maggio riguardo ad aprile poi saliranno a mille ma a mille non avranno diritto tutti quelli che non è la stessa platea e quindi ci sarà una nuova richiesta per i mille nel frattempo il bonus babysitter è un casino che la metà basta il bonus dei 500 euro per il turismo è una bestialità Franceschini oggi intervistato dal giornale unico del partito cioè il fake quotidiano il fatto quotidiano cosa ci dice? vanno tradotte in norme le indicazioni del comitato tecnico scientifico allora se il nostro ministro del turismo dice che vanno tradotte in norme le indicazioni del comitato tecnico scientifico abdica al suo stipendio abdica alla sua funzione cioè quella della politica quella di prendersi responsabilità se l'istituto tecnico scientifico dice che per non prendere il virus ci vogliono 4 metri è la stessa cosa che ti potrebbe dire un medico come fai Franceschini a vivere fino a 90 anni non fumandoti il sigaro ma in realtà tu te lo stai fumando il sigaro oppure se te lo chiede il pilota o il grande medico e dice come fai a vivere senza avere una frattura non vai a sciare non vai in motorino la puoi andare in motorino fino a quando sarà possibile e anche a sciare che sono attività rischiose come giocare a calcetto se hai 50 anni è rischioso ma lo possiamo fare se noi pensiamo di tradurre in norme quello che dice il comitato tecnico scientifico caro ministro Franceschini noi siamo morti tu forse continuerai a fare per i prossimi 40 anni il ministro e come Zingaretti e come una grande classe politica diciamo di peso riuscirà a tradurre in norme tutto quello che vuole ma saremo morti tutti noi il ministro Franceschini vuole vivere in un paese di morti io non voglio vivere in un paese di morti non voglio vivere a due metri di distanza dal mio vicino io voglio vivere appiccicato al mio vicino chiaro ho quasi come posso dire la nostalgia ridicola e paradossale di andare in una metropolitana con altre 10 persone come facevo quando andavo a scuola io a 7 anni e mezzo tra Circo Massimo e Ormarconi e c'era una metropolitana piena di gente come piena di gente talvolta anche a Milano e beh insomma quella gente è la vitalità di una città e invece per me la metropolitana con i distanziometri il bar con i distanziometri il ristorante con i distanziometri i bagnini che non possono fare la respirazione bocca a bocca sono dei drogati di paura di questo virus che dobbiamo toglierci dalle palle comunque sul decreto mi sembra che ho detto tanto il Daily Mail fantastico oggi il giornale diciamo popolare inglese racconta della lotta anche lì tutto il mondo e paese tra le maestre che vogliono insegnare ai ragazzi a tornare a scuola e i sindacati che non le vogliono far tornare a scuola per la paura del contagio che è diventata insomma la peste del ventunesimo secolo Zingaretti fa un'intervista alla stampa in cui dice una cosa di cui vi potete fidare fino a un certo punto perché dice non c'è alternativa a questo governo è lo stesso Zingaretti che diceva non faremo mai a pochi mesi dall'accordo un governo con il Movimento 5 Stelle e poi l'ha fatto insomma possiamo dare fiducia a quello che ci ha detto fino a due anni fa che non faceva una cosa e poi l'ha fatta possiamo veramente credere al segretario del PD che dice che non c'è un'alternativa a questo governo e poi boh io non lo so io non gliela darei Gualtieri ve l'ho detto un'intervista sui 55 miliardi che diventano 155 miliardi e per il resto dice poco o nulla dice che sarà una grande ci sarà un grande rilancio beh fantastico Mario Giordano oggi si cucina Arturi Arcuri der commissare lo faccio anch'io oggi citando una bellissima cosa di Friedman che in un'intervista Milton Friedman ebbe il Nobel dell'economia nel 1976 nel 1977 Friedman che a differenza di Arcuri non è nato non si prende uno stipendio da 950 mila euro all'anno ma a differenza o quello che è non lo so magari sarebbe interessante sapere lo stipendio di Arcuri ma mi sembra che così intorno a quelle cifre gira ma comunque quello che volevo dire Milton Friedman nel 70 è nato poverissimo immigrato nella zona più brutta dell'America di New York nel 76 prende il Nobel sui suoi studi nel 77 senza puzza sotto il naso un Nobel economista fa un'intervista a Los Angeles Times piena austerity dell'energia e che cosa dice Milton Friedman guardate che gli economisti non sanno fare praticamente nulla una cosa sono bravissimi sanno come far scomparire certi beni dal mercato basta che fissano ad esempio un prezzo per i pomodori e siete certi che quei pomodori non li troverete più la stessa cosa vale per gas ed energia non so se l'avete capita alcuni l'hai capita toc toc l'hai capita sta cosa di Milton Friedman ma quello sarà un liberista con il cocktail in mano come me o come tutti gli altri che fanno video messaggi senza avere diciamo letto Mario Giordano di oggi che mi sembra favoloso leggetevelo vi ho detto che sul bonus dei 110% delle ristrutturazioni di lizio ho capito che è una minchiata ragazzi la prenderanno pochissime persone perché devi rifare il cappotto esterno delle case oppure devi cambiare la caldaia devi fare l'assemblea straordinaria devono essere tutti d'accordo interessante la tesi di Capone che io non condivido sul foglio che dice gli soldi e devo dire a Luciano che è un liberale talvolta che però si avvolge in se stesso perché io sono d'accordo ma questo decreto che fa acqua da tutte le parti un'idea ce l'aveva buona cioè quello dello stimolo all'economia addirittura al 110% è l'unico stimolo che avrebbero potuto dare le imprese con un'offerta che creava la propria domanda perché in questa maniera le aziende andavano a dire alle imprese fai questo fai quest'altro eccetera capisco che è un incentivo che può durare come dura un anno solo ma sarebbe stata una cosa geniale in realtà non sono riusciti a fare manco quello però il non aver fatto questo comunque è oggetto di critica di Capone che dice attenzione a come si spendono i soldi perché si buttano nel cesso ha ragione in termini assoluti ma in termini relativi secondo me questo invece è un bellissimo stimolo all'offerta che se avesse funzionato sarebbe servito a qualcosa ma comunque non si preoccupi Capone e non vi preoccupate a voi il vostro ristrutturazione edilizia a casa non la fate con lo stesso successo con cui fate le ristrutturazioni edilizie incentivate dal passato e l'ultima cosa riguarda la Rai fantastica io quando vedo la Rai che c'è la battaglia tra PD e Movimento 5 Stelle per fare le nomini che poi vanno a finire per cui i 5 Stelle nominano direttore di Rai 3 sostengono Franco Di Mare uomo loro a me non mi sembra che Franco Di Mare sia un grillino ma comunque forse mi sono perso un pezzo nella vicenda Rai la vicenda Rai è fantastica perché a me mi cacciarono l'amministratore delegato è presidente della Rai è direttrice della Rai e adesso sono sempre lì che girano tutti e tre mi hanno cacciato la Rai tutti e tre con i venti tutti che facevano le intervistine che volevano mettersi la medialetta con Renzi per essere stati i cattivi che mi avevano cacciato e la stessa cosa avviene oggi che tutti diventano grillini e piddini ma Franco Di Mare pare che sia diventato grillino così leggo sui giornali diventa direttore di Rai 3 ma direttore di Rai 3 in quota PD e più o meno invece quello è sempre stato il suo diciamo milieu viene considerato Orfeo che ritorna direttore di Rai 3 a cui nei confronti dei quali ho una particolare simpatia perché mi ha chiamato e mi ha detto se andavo a ritornare a fare virus prima del virus a Rai 2 quindi io penso che sarà pure uno vicino al PD ma era talmente di come possiamo dire di larghe vedute che da direttore generale della Rai avrebbe voluto riportare un programma non certo di sinistra in Rai quindi non vedo che male ci sia anzi godo come un riccio vi dico la verità a vedere Orfeo un uomo non assimilabile alla sinistra bescela da quattro soldi diventare direttore di Rai 3 del TG3 quindi il TG3 che passa da Telecabul a Orfeo a me mi fa godere non so come dire poi dopo mi fa anche godere questa come posso dire questa idea dei grillini che avrebbero aperto col Parlamento e che ora fanno le trattative per il direttore di rete per l'uomo del GR sono veramente cambiati i tempi un grande saluto a tutti quanti voi noi ci vediamo come sempre con la zuppa di domani sul sito nicolaporro.it quest'oggi vi voglio far leggere un pezzo favoloso di Huerta De Soto un grandissimo liberale professore di economia che ha scritto la vera storia della riserva frazionaria e delle banche con un libro che recensì un po' di anni fa ma che oggi scrive sul sito nicolaporro.it perché stiamo lentamente perdendo le nostre libertà ciao 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 Grazie.